Ciao a tutte, oggi voglio riferirmi più alle donne perché è un organizer per metterci sopra tutto ciò che riguarda i cosmetici quindi dalle creme, ai pennelli, al fondotinta, agli ombretti, insomma potremmo metterci quello che più ci piace però non è detto che sia un organizer solo per i cosmetici, se vogliamo potremmo metterci anche, magari appoggiarci anche i nostri gioielli insomma ognuno ne fa l'utilizzo che più gli pare arriva con i vari pezzi da montare, l'assemblaggio è facilissimo come vedete è interamente realizzato in plastica colorata, molto bello e accattivante il design e può essere messo in bagno, magari se abbiamo l'angolino nostro personale in camera metterlo nel nostro angolino personale e appoggiarci quello che vogliamo la cosa più bella è che possiamo scambiare i vari ripiani, i vari settori come vogliamo per adattarli quindi a quello che andremo a mettere al suo interno una cosa molto particolare poi è il fatto che è girevole a 360 gradi come vedete grazie alla base quindi girevole che vedete questo disco permette quindi all'organizer di girare quindi molto comodo perché andremo quindi a girare l'organizer e scegliere quello che ci fa comodo al momento senza doverlo spostare di continuo lo trovo veramente fatto in maniera ottima ottimo il materiale perché la plastica è abbastanza resistente in più il costo non è eccessivo lo trovo molto interessante quindi ve lo consiglio per avere sempre a portata di mano e in ordine i vostri cosmetici ciao ciao